no vieni qua manco prendila prendila giulia vieni giulia vieni waaaa musica 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 bici bici buongiorno ragazzi ragazzi video questo video non mi piace un video recensione bene si perchè ci è arrivato un pacco mega gigante perchè qui dentro c'è un qualcosa un qualcosa allora lo apriremo assieme abbiamo già levato una parte di scotch perchè altrimenti youtube ci blocca il video quindi abbiamo già tagliato quindi ora è il momento di aprire il pacco vado 3 2 1 3 2 1 e qui vediamo il blu vediamo qualcosa di blu io vedo qualcosa di blu ci tocca aprire però ora 3 2 1 ok ok siamo pronti dal video allora secondo voi che cos'è? vi facciamo vedere una cosa è una ruota c'è una ruota quindi vi facciamo 5 secondi per decidere 1 2 3 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 4 5 6 6 7 2 2 3 7 7 7 8 8 9 7 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 16 16 Basta cliccare questo pulsante rosso Ed inserirlo Vai Ecco qui E qui Guardate i dettagli di questi Colori dal blu scuro Al azzurro chiaro Azzurro chiarissimo e bianco E sono dei contrasti bellissimi Cliccate qui e si ferma Poi si può anche Modellare Ok raga l'abbiamo anche regolato E abbiamo visto che le ruote Si illuminano guardate Lale senti mi dispiace ma io voglio fare un giro Giulia ma non vuoi Sono troppo belle Mi dispiace ma queste ruote devono essere sfruttate Mi dispiace No Giulia non puoi Voglio fare un bel giro Giulia ma è per bambino 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 Scendi 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 Il tuo Ah Guarda Guardate il feno La funzionazione no Non lo puoi usare tu Dai che troppo piccola E ci credo no E mi sono fermata col fermo Vieni qua che non è il tuo certo vengo raga è stupendo è velocissimo anche per i bimbi guardate le ruote vediamo spegniamo un po' la luce vediamo se siete meglio illuminati dai spegni un po' spegni dai vieni vieni mi sono capito si guardate ora le faccio vedere senza che io ci salga fighissimo guarda è fatto bene dai è fatto benissimo è una cosa che mi piace spavere i bimbi troppo fico scendi basta scendi no mi dispiace non sei più piccolo non sei più cinque anni sei più sette anni otto anni scendi poi anche le ruote guardate le ruote si muovono si sono dicono ruote di gravità giro da sole vedi 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 giro da sole che fighe dai ok dai me lo porto no vieni qua mandi prendila ok raga quindi il monopattino è davvero davvero bello è appunto fatto a tre ruote quindi due avanti e una sul retro poi appunto abbiamo la parte bassa che è tutta colorata ovviamente ci sono diversi colori che possono essere sia per bambine che per bambini noi l'abbiamo scelto per bambini proprio perché lo dobbiamo regalare al nostro cugino ma i diversi colori vi lasciamo nel link o io e io no Giulia no o io e io vi lasciamo il link nell'info box così che potete appunto scegliere il vostro color ed è anche molto veloce per i bambini per farlo dire le ruote appunto guardate guardate si illuminano invece è regolabile quindi perfetto è resistente tantissimo davvero solido che ne fai di questo e chi lo dà tu lo devi dare no non deve essere così io lo tengo per me va bene perché questo è mio cioè capisci è mio no Giulia no dai io devo fare un altro giro però poi lo riporto in te no no non ti preoccupare perché quello è una cosa difficile no no non ti preoccupare no devo testarlo no no non fa niente davvero non fa niente posso provarlo no dai facciamati un'altra volta fammi vedere mettetelo frontale mettete frontale così do un po allora manubre l'abbiamo detto manubre che si può anche regolare regolabile in altezza due ruote avanti una posteriore col freno scooter quindi c'è un vari colori giratelo un po' sotto vediamo un po' sotto come è alzatelo un po' alziamolo un po' vediamo la struttura anche la ruota dietro si illumina ok raga quindi come vi ho detto in precedenza potete andare nell'info box e troverete appunto che cos'è l'info box? qui giù basta cliccare una freccia e trovate appunto tutta una pagina quale freccia? una freccia sotto al... una freccia così che però... ma dove si trova? giù appena sotto il video dove appunto ci sono i like sotto al video dove sono i like c'è la descrizione del video esatto e trovate l'immagine qui ma sono stato bravo si ma poi si dai mi sto migliorando? si posso fare i video insieme a voi? no no che cazzo allora mi trovi il monopattino quindi raga basta che andate nell'info box trovate il link potete scegliere il vostro monopattino di qualsiasi colore esatto ovviamente per bambini quindi le siete barmi quindi se volete acquistarlo vi lasciamo tutte le informazioni qui giù in infobox e niente raga noi mandiamo un bacio a noi spero che questo video sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo grazie per il regalo eh esatto ringraziamo vi mandiamo un bacio a noi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao